Ciao a tutti, sono Marta e sono in Nuova Zelanda da purtroppo quasi otto mesi, cioè no, purtroppo, sono quasi finiti però. Niente, sono qui per lavorare a un progetto di tesi, io sto facendo la magistrale a Torino, al Politecnico, e ho deciso di partecipare ad un bando per fare un'attività per avere questo tipo di esperienza. Il mio bando non è un progetto Erasmus, però è una sorta di scambio, si chiama progetto tesi su proposta, quindi in pratica io ho dovuto trovare l'università, i professori, e quindi tra le tante università alla fine ho scelto di venire qui, non c'è stato un motivo preciso, però il mio relatore era italiano, quindi alla fine sono andata un po' a fiducia, e quindi niente, ho deciso di partire. Come ho detto sto qua da ottobre e sono venuta con il work visa, ho dovuto fare il work visa perché lo student visa non si può fare, in quanto non essendo io una studentessa, non essendo anche nello scam Erasmus, in realtà io è come se non fossi iscritta all'università, quindi non ho dovuto pagare fee all'università, nessun tipo di tassa, se così si può dire, perché io le pago al Politecnico, e quindi lo student visa non si può fare per questo motivo, e quindi ho dovuto fare un work visa, e è stato abbastanza complicato capire che tipo di visto si deve fare, perché anche sul sito per esempio, loro mi hanno consigliato di fare uno student visa, io sono andata sul sito preciso dell'immigrazione, quindi mi avevano proprio consigliato fare lo student visa, però in realtà così non bisogna fare così. Nel work visa c'è proprio un riquadro che parla di questi progetti di tesi, e niente, diciamo che i requisiti sono molto simili allo student visa, quindi prima di tutto vabbè soldi, perché devi avere una certa disponibilità, e devi far vedere a loro che tu hai una certa liquidità sulla tua carta di credito, poi il biglietto, ovviamente per partire, quello per ritornare io ancora non l'avevo comprato, quindi non mi hanno fatto storie, vabbè una foto, normale, e poi una lettera di presentazione, che deve compilare l'università che ti ospita. Come tempistiche per fare il visto non sono state molto lunghe, all'incirca due settimane e mezzo, tre, anche se sul sito ce l'ho scritto molto di più, però no, ho dovuto spedire il passaporto a Londra, e poi vabbè per vari problemi avuti, perché non ero sicura fino alla fine di dover fare il work visa, ho dovuto chiamare anche qua a Nuova Zelanda, però alla fine è andato tutto bene, loro comunque mi hanno comunicato quasi tutto, poi c'è tipo un'iscrizione da fare sul sito dell'immigrazione, in cui tu puoi seguire tutta la procedura, quindi è abbastanza fattibile. Niente, quindi alla fine ho deciso di partire, finalmente mi sono fatta coraggio, perché comunque ci vuole coraggio, perché neanche a farlo apposta è il paese più lontano dall'Italia, giuro di non averlo fatto apposta, però è proprio così, e quindi niente, alla fine sono venuta qui e diciamo che l'impatto non è stato proprio positivissimo, perché io sono abituata a Torino, ma anche a Benevento, la città dove sono nata, e qui è tutto molto 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 diverso, cioè nel senso mi sembrava di stare in una grande, non dico periferia, però diciamo che dall'aeroporto fino al bed and breakfast ho visto soltanto case, 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 case e case, e giardini, e parchi, e quindi ho iniziato a dire oddio ma dov'è la città, insomma i primi pensieri sono questi, no? Quindi diciamo che all'inizio ti devi un po' abituare all'idea che comunque qui sei dall'altra parte del mondo ed è tutto un altro mondo rispetto all'Italia, rispetto all'Europa, perché hanno una concezione completamente diversa un po' da molti punti di vista, per esempio qui danno molto molto peso al tempo libero, alla famiglia, il lavoro è molto meno stressante rispetto all'Italia, però queste sono cose che capisci dopo, io infatti ci ho messo un po' per entrare nell'ottica, mentre al contrario l'università l'impatto è stato molto positivo perché i professori qui si danno del tu, quindi venendo giustamente da un'università italiana in cui devi dare il lei, qui il rapporto è completamente diverso, cioè vanno a giocare a pallone, si vanno a prendere le birre insieme, quindi sono rimasta abbastanza colpita da questo atteggiamento e poi l'ambiente è davvero molto stimolante perché qui dal punto di vista sismico e non solo sono davvero avanzati, cioè ne sanno davvero molto e quindi hai la possibilità di imparare molto da tutti i punti di vista, poi anche l'università è molto viva, ci sono molti club studenteschi che veramente funzionano, al contrario dell'Italia dove ci sono, sì ci sono ma certo non sono così organizzati, quindi per esempio c'è il tramping club, molti club di sport, quindi sì, diciamo che l'ambiente è molto molto stimolante dal punto di vista universitario. Per quanto riguarda invece la città, diciamo che come nightlife è abbastanza scarsa e infatti io è per questo che ho fatto un po' fatica ad abituarmi all'inizio perché comunque la città purtroppo è stata distrutta da un terremoto quattro anni fa e quindi diciamo che manca un po' il centro, manca un vero e proprio punto di ritrovo e comunque non hanno la concezione di ritrovarsi in un punto, non so, alle 8-9 di sera come facciamo noi in Italia, in Europa oserei dire, ma ecco manca questa cosa quindi all'inizio mi sono sentita spesata anche per questo, però alla fine ho anche iniziato a viaggiare, fortunatamente ho avuto la possibilità di girare e ho conosciuto anche persone che mi hanno accompagnato in questo e è un posto magnifico e quindi diciamo che vedendo le meraviglie che ci sono qui ho iniziato a vedere questa esperienza sotto tutto un altro punto di vista perché sì, è vero che non è come l'Italia, però non è la possibilità di vedere paesaggi mozzafiato che sono a mezz'ora di macchina da qua, mentre per quanto riguarda diciamo il budget più o meno quanto bisogna preventivare, qui la vita non è molto molto cheap nel senso che diciamo al supermercato le cose sono quasi tutto molto costose e l'unica cosa che è un po' più economica dell'Italia anche se alla fine in Italia vai da Decathlon quindi vabbè, però tutto quello che riguarda lo sport perché qui sono molto molto fissati con lo sport, cioè danno davvero molta importanza, io so che tipo alle scuole elementari hanno la possibilità di scegliere tra 17 tipi diversi di sport se non qualcosa in più e per me è un qualcosa di assurdo perché non lo so puoi scegliere equitazione, canoa, kayak, quindi per me è una cosa assurda. Comunque diciamo che come budget considerando che se ti va bene come studente diciamo puoi trovare una casa che va dai 150-180 se ti va bene, considerando 100 dollari di spesa a settimana quindi direi che 1200-1500 dollari mensili e stai tranquillo. La vita qui è molto rilassata, cioè tutti quanti vivono, hanno una concezione molto relax anche appunto come ore lavorative, non c'è stress e tu questa cosa la percepisci. Sì è tutto molto molto tranquillo e infatti diciamo che l'esperienza di otto mesi ho iniziato ad immaginarla in maniera diversa appunto pensando che erano solo otto mesi ecco e che probabilmente non avrei mai avuto la possibilità di venire in Nuova Zelanda se non per studio perché diciamoci la verità non è che è molto conosciuta in Italia, perlomeno dalle mie parti nessuno nessuno ne parla, non si parla nella Nuova Zelanda, cioè è più famosa l'Australia rispetto alla Nuova Zelanda. Però ecco facendo una riflessione diciamo più ampio raggio magari un giorno venire qua e viverci io non credo che sarei capace perché per me comunque oltre al lavoro è importante anche il tipo di vita che hai qua e come detto non penso riuscire a vivere perché è davvero tutto molto tranquillo, troppo per me. Cioè delle volte molto spesso ti serve anche altro, diciamo la natura non basta ecco. Diciamo che una cosa positiva da questo vivere in maniera così tranquilla e che alla fine qui danno molta importanza al tempo libero, quindi io ho imparato a dare molta importanza al tempo per me stesso, una cosa che mi mancava in Italia, non ero mai riuscita. Il mio consiglio è se vuoi venire qua per studiare assolutamente sì perché soprattutto per quanto riguarda l'ingegneria civile qui sei molto valorizzato, però certo se vieni qua con l'idea di non lo so fare festa come non so in Spagna, ovviamente che la Spagna non è così, cioè è completamente diverso, però ecco hai comunque la possibilità di vedere cose che ci sono solo qui. Io una cosa che ho apprezzato, certo mi manca la mia vita sociale, però Christchurch è la città dei giardini e per me questa è una cosa eccezionale perché non penso che troverò in qualche altro posto del mondo una città come questa perché non lo so, fai 100 metri e ti trovi un parco enorme, altri 100 e ne trovi un altro, cioè comunque respiri molta più aria pulita, ma non solo perché è il paese che è giovane e quindi non ci sono grandi città, ma proprio perché il verde è ovunque, dappertutto. E' questo, va bene, ciao a tutti!